Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori, e benvenuti in questo nuovissimo video con l'altra richiesta di Fabio Lacara e di Nicola 7 Billy Blue. Prima di tutto, quella di Fabio Lacara. Prima di tutto la promo. Riuscirà Mediaset, a fare il restyling completo di Italia 1, Italia 2, Iris, Top Crime, e Mediaset Extra. Lo scopriremo prossimamente. Non mancate. E adesso questo qui. Speriamo proprio che secondo noi, quest'anno, cioè in autunno 2022, la RAI riuscirà finalmente a cambiare e a sistemare il TG3 di adesso che fa ancora schifo. E speriamo che il nuovissimo restyling completo di TG3 non sarà posticipato troppe volte. E infine quella di Nicola. Riusciremo in futuro, a rivedere di nuovo Telemonte Carlo? Sì o no? Lo scopriremo prossimamente. Non mancate. E con il video è tutto. Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori e alla prossima. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.